Speranza, guardiamo le due facce della medaglia. Con il 5-3-2 avete preso un solo gol da quando utilizzate questo schema. Però verrebbe da dire, se si subiscono tanti gol con cinque difensori e tre centrocampisti, è una tragedia. Sicuramente è un modulo che ci permette di difenderci meglio, quello sicuramente. Lo stiamo facendo abbastanza bene, sono tre partite, quindi dobbiamo continuare su questa continuità. Non c'è il rischio che la coperta diventi un po' corta, cioè se poi non prendi gol ma fai fatica a farli? Sicuramente dobbiamo migliorare su questo lato che dici tu, dobbiamo essere un po' più incisivi lì davanti, come squadra. Non è facile, sono tre partite che stiamo facendo questo modulo e stiamo migliorando partita dopo partita, quindi piano piano dobbiamo essere anche molto più bravi lì davanti. Secondo lei perché il presidente Campitelli non ha gradito molto il pareggio di Ponte d'Era col tutto cuoia? Il presidente è un presidente che vuole sempre vincere, io ormai lo conosco bene da anni, quindi è normale. Sicuramente si poteva vincere, domenica si poteva vincere, è stato un peccato comunque. Però dobbiamo guardare il lato positivo che non abbiamo perso, quindi dobbiamo continuare a far risultato. E' già da domenica magari di vincere lì in Toscana. E quindi domenica Campitelli vorrà vincere a Lucca? Sicuramente, come ho detto prima, il presidente vuole sempre vincere ogni domenica, come noi d'altronde. Però purtroppo a volte non ci si riesce, per una cosa o per un'altra non ci si riesce. Però noi andiamo ogni partita per fare il risultato pieno. Ripeto, speriamo già da domenica di farlo. Che difficoltà presenta la trasferta al Porta Elisa? Ma è una squadra che ha chiamato da poco l'allenatore, quindi una squadra piena di vivacità. Quindi è una buona squadra, quindi dobbiamo stare attenti a fare bene tutta la partita. Quest'anno a gol non è che sta andando molto bene? Sicuramente, dobbiamo migliorare anche tutto questo. Non è che fai il difensore, però. Sicuramente, però. Ci aveva abituato bene. Ogni tanto, diciamo, sì. Dobbiamo migliorare su questo lato, perché magari l'anno scorso sfruttavamo molto di più questi calci piazzati. Quindi stiamo cercando in settimana di fare molto meglio, perché anche i gol magari dei difensori centrocampisti fanno più che bene alla squadra. Alla fine la somma che fa il totale, diceva Totò. Giustissimo, giustissimo. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.